In grandissimo spolvero liquida Monza che pochi giorni fa aveva costretto al quinto set i campioni del mondo di Trento un 3-0 nettissimo con parziale a 20, a 22 e a 14. Tra i grandi protagonisti c'è Mattei Casischi che è tornato nel campionato italiano dopo un periodo di assenza e lo ha fatto alla grandissima. Terza partita per lui con la maglia giallo-blu e subito a fare la differenza. Un grandissimo ritorno il tuo. Grazie mille, per noi è stata veramente una partita importante, sono contento di aver dato il mio contributo comunque credo che anche i miei compagni hanno fatto il loro meglio perché eravamo tanto concentrati visto che giochevamo contro una squadra come hai detto tu che ha giocato bellissimo contro la squadra campionata del mondo quindi ci aspettavamo una battaglia e siamo preparati bene e abbiamo fatto il massimo. Quanto ti è piaciuto avere la possibilità di tornare in Italia, tra l'altro a pochi chilometri da Trento che rimane un po' casa tua? Allora, sempre un piacere, sono stato lontano anche se con qualche piccolo episodio riuscivo a tornare ma adesso ho la possibilità di giocare a lungo quindi sono contentissimo. Verona è in un grandissimo momento, il tuo contributo ovviamente sta aiutando in attesa anche del recupero di elementi come Gieschi che potranno davvero fare di questa squadra una mina vagante per il proseguo del campionato? Allora, io credo che abbiamo tanto potenziale come squadra e non siamo ancora al nostro massimo però comunque c'è da dire che la squadra prima di che io venisse ha avuto tanti problemi quindi speriamo prima di risolvere quelli e poi di cercare di crescere insieme. L'impegno a Perugia può essere un bel test? Assolutamente sì, per noi è proprio un test per vedere a che punto siamo contro una squadra fortissima.